Ma lo sapete che da quando è successa quella roba che avevo già raccontato, però non so se molti di voi in realtà la sanno, perché l'ho raccontata sul canale di Ivan, forse, vabbè, lo ripeto, praticamente hanno portato, hanno rimesso una mia live su YouPorn, dove non si vedeva letteralmente un cazzo, ma facevo yoga, non si vedeva letteralmente nulla, raga, e vi giuro mi è venuta così tanto l'ansia che adesso anche a mettermi un maglioncino stretto mi faccio un po' fatica, non guardatemi, grazie, e Rubino rideva, esatto, esatto, quella live là.